Il mondo del calcio è sotto shock dopo che Aurelio De Laurenti si è risultato positivo al Covid. Mercoledì il presidente del Napoli si era presentato all'Assemblea di Lega senza sapere l'esito del tampone e ora c'è grande appressione tra i presidenti e i massimi dirigenti dei club di Serie A. Una cinquantina di persone sono venute più o meno in contatto con lui e ora dovranno sottoporsi ai controlli di rito e rimanere a distanza dalle rispettive squadre per evitare effetti a catena nei contagi e nelle quarantene. Le condizioni di salute di De Laurenti sarebbero buone, solo debolezze e dolori muscolari ma secondo indiscrezioni De Laurenti si sarebbe recato all'Assemblea di Lega con alcuni sintomi come febbre e mal di stomaco ma non avrebbe indossato la mascherina.